Ieri tutta un'altra partita da parte nostra, soprattutto in attacco, abbiamo perso moltissimi palloni in nero, un difesa di ottima intensità. Qual è la tua analisi di questa partita? Sì, devo dire che il risultato rispetto a ieri è cambiato. Abbiamo perso di un gol, 29-30. Questo era il nostro obiettivo di oggi, diciamo, perché ieri abbiamo perso 20 palloni, oggi molti di meno. Si è visto alla fine il risultato. La difesa è salita un po', abbiamo aumentato un po' di intensità rispetto a ieri, abbiamo lottato di più. Per dire, il primo tempo abbiamo preso 13 gol, però solo sei su difesa piazzata, quindi dobbiamo ancora lavorare sul rientro in difesa e un po' meglio in attacco per diminuire ancora le palle perse, però stiamo andando bene, stiamo migliorando. Tu sei un 85, ma è da tanto che ormai dai una mano alla nazionale. Si vedono in campo tanti giovani, Moretti, Rossi, Parisini. Come li vedi in questo gruppo? Beh, è un gruppo nuovo per me. Io con loro ho fatto due stage, però il gruppo mi piace, i giovani hanno voglia. Soprattutto sono il mio posto, Stavolini si sta comportando bene. Io cerco di aiutare, di trasmetterlo un po' la mia esperienza, di aiutarlo quanto più. E poi con gli altri faccio lo stesso, con Moretti e con gli altri cerco di aiutare, però sono contento del loro apporto. Grazie.